Incontinenza urinaria nell'Asla VCO è nato il Pelvic Team Uroginecologico. I reparti di urologia e ostetricia ginecologia sono stati riconosciuti dalla regione Piemonte sulla scorta di tutti i criteri previsti come centri di primo e secondo livello per la prevenzione, la diagnosi e la cura dell'incontinenza urinaria femminile e maschile. Il progetto di collaborazione tra le due realtà prevede il trattamento diagnostico, medico e chirurgico dei pazienti affetti da incontinenza urinaria primaria e secondaria. Prevede inoltre l'esecuzione di un programma di riabilitazione perineale completata da fisiatri e fisioterapisti per il trattamento riabilitatorio e dal chirurgo in caso di presenza di prolasso rettale e incontinenza fecale. Nel centro vengono proposte le più moderne tecniche diagnostiche e terapeutiche. Già nel 2019 sono stati attivati al Castelli l'ambulatorio di visite per la diagnosi, il trattamento di questa patologia e l'ambulatorio di urodinamica e sono stati eseguiti i primi interventi chirurgici per incontinenza urinaria da sforzo. L'incontinenza urinaria è una patologia molto depilitante e con un forte impatto sociale. Una malattia della quale spesso ci si vergogna. Sebbene sia estremamente diffusa, ne soffrono oltre 6 milioni di persone in Italia. Colpisce una donna su 5, soprattutto dopo i 45-50 anni, e in percentuale minore circa il 12% anche gli uomini con punte del 15% intorno ai 70 anni. Oltre ai 75 anni la percentuale arriva al 50% in entrambi i sessi. L'incontinenza può essere però anche un problema per donne più giovani dovuto a un ipertono del pavimento pelvico. L'invito è quello ad affrontare il problema per migliorare sensibilmente la propria qualità di vita. La direzione ASL esprime soddisfazione per l'attribuzione di questi centri che sanciscono la qualità dei servizi offerti dai due reparti diretti dai dottori Centrella e Arnulfo.